Buongiorno, io sono Clayton Suta, direttore del refettorio, un refettorio e non dico ristorante del refettorio perché questo posto è nato proprio cercando di portare il refettorio di una volta, ma in un mondo più moderno, praticamente sarebbe un refettorio contemporaneo. I criteri dove si basa tutto il lavoro nostro sono la semplicità, la freschezza e finché noi riusciamo a farlo anche la coerenza. Semplicità ma partendo dal servizio, da quello che noi portiamo al tavolo, cioè il cibo, sul nostro comportamento, ma anche sulle cose più semplici, tipo l'acqua, che noi usiamo un'acqua microfiltrata che non è solo il fatto di poter risparmiare un po' su quello che si potrebbe andare a comprare, ma anche risparmiare dei rifiuti che oggi nel mondo ne sono troppi e stanno andando a incidere su qualsiasi attività umana. quest'anno abbiamo voluto collaborare con quest'iniziativa per l'arte a Milano, che sarebbe la settimana di Brear Art, con due iniziative, una ospitando una galleria che è di musica e lettura, che sarà il 24 di ottobre, a cura del poeta Stefano Raimondi.